Gli ingredienti di una favola ci sono tutti. Il sogno, gli ostacoli, l'escamotage, il lieto fine. Questo è Io sto con la sposa, il film documentario dei registi Gabriele del Grande, Khaled Soleiman al-Nasri e Antonio Gugliaro, nelle sale italiane dal 9 ottobre. Questo è un film che oltre a raccontare il dramma della guerra, il dramma dei viaggi in mare, mostra anche la bellezza di un'Europa che ci ha aperto la porta. Noi abbiamo attraversato 5 stati, 3.000 km, 4 giorni in viaggio, trovando ospitalità, casa di amici, amici di amici che hanno aperto la porta, sapendo che avevamo con noi 5 persone senza documenti, in fuga dalla guerra e poi dopo questa straordinaria accoglienza abbiamo incontrato la fiducia di quasi 3.000 produttori dal basso che ci hanno permesso di realizzare questo film. È stato un entusiasmo che ha contagiato migliaia di persone, ci ha portato a Venezia, ci ha portato oggi al cinema. È un film che non soltanto mostra la bellezza di un mondo possibile, ma mostra anche questa Italia che non c'è, che non fa rumore, perché come si sa fa più rumore un albero che cade che cento che crescono e speriamo che contribuisca a questo film anche a mettere un po' in contatto queste isole di bella Italia che c'è in giro. I soldi che sono arrivati tramite il crowdfunding sono arrivati da più di 30 paesi del mondo, diciamo che il nostro pubblico più affezionato è sicuramente quello italiano, però ci sono stati anche dei finanziamenti da Israele, per cui questa è la prova che questo è un film veramente universale, parla un po' a tutti, parla a quelli che la pensano diversamente da noi e a quelli che la pensano come noi, perché in fondo questo film racconta una storia umana, l'umanità, la gioia, la disperazione, la speranza, l'utopia di un mondo migliore, non ha una retorica politica dietro, alle spalle, ma veramente al centro è l'essere umano e la vita. L'anteprima romana del film si è svolta il 3 ottobre, a un anno dal naufragio di Lampedusa dove persero la vita 368 persone. Gli autori del film e gli spettatori commemorano l'evento con una fiaccolata. Una settimana fa abbiamo ospitato a Milano due donne palestinesi, siriane, arrivate via mare senza documenti, tecnicamente parlando questo è un reato, ora io non riesco a vedere l'illegalità dell'offrire da dormire o un passaggio in macchina a delle persone, a maggior ragione se sono persone che scappano da una guerra. C'è stato in questi anni un accanimento veramente eccessivo sulla questione della mobilità, che oltre a produrre delle pene proprio di detenzione, penso ai centri di espulsione, penso al reato di clandestinità, ma ha proprio prodotto della morte, cioè ci sono 20.000 e passa morti in mare che sono morti in mare perché hanno trovato chiusa la porta delle ambasciate. Ecco, questa è la conseguenza estrema di queste leggi di repressione sulla mobilità. Noi pensiamo che viaggiare non sia un crimine e lo pensiamo, parlo personalmente, oltre ad essere una convinzione politica, filosofica, è stato proprio qualcosa che è successo come un atto naturale, nel senso dovuto all'esperienza, cioè noi a Milano abbiamo incontrato questi siriani ad ottobre, un mese dopo che io ero tornato alla Siria, e io se mi sono salvato la vita in Siria è grazie alla solidarietà e all'accoglienza che mi hanno dato amici siriani, quindi mi è sembrato normale fare lo stesso di qua. E non soltanto a me, non è soltanto l'esperienza diretta della guerra che ti dà questo, è un sentire comune di 23 persone che sono partite con noi, perché poi oltre ai registi e ai cinque profughi c'erano amici e amiche che sono venute a fare i finti invitati al corteo, e come noi sono persone normali, non è una storia di eroi questa, è una storia di gente comune che fa una piccola cosa per scegliere da che parte stare, si mette il fiocco bianco del matrimonio per appunto far esistere un mondo possibile, dicendo che questa è la nostra storia, il nostro mare e sono i nostri morti da piangere, sono i nostri vivi da aiutare e da portare avanti. Questo è un po' quello che poi ti fa scegliere di seguire il cuore anziché la legge, si può dire che abbiamo disobbedito, si può anche dire che abbiamo obbedito alla nostra umanità.